I carabinieri hanno arrestato a Caserta per tentato omicidio una ragazza di 17 anni, diventerà maggiorenne tra pochi giorni, con l'accusa di aver accoltellato una diciottenne in seguito ad una lite avvenuta all'interno dell'Istituto Superiore Buonarroti. Entrambe le ragazze frequentano la scuola serale. Secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, le due forze per vecchi rancori e antipatie, avrebbero iniziato a litigare appena terminata la lezione, mentre erano ancora a scuola. Un confronto acceso degenerato quando la diciassettenne ha estratto un coltello a serramannico e ha iniziato a colpire l'altra giovane che è rimasta ferita al collo e al torace. In poco tempo sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la diciottenne in ospedale dove è stata ricoverata in proniosi riservata ma per fortuna non è in pericolo di vita. Anche la diciassettenne ha riportato delle ferite e i carabinieri della compagnia di Caserta hanno raccolto testimonianze ricostruendo l'accaduto e hanno quindi arrestato la minore.